Ferrara a Natale diventa il regno delle meraviglie, vivi l'atmosfera incantata delle feste. In piazza Cattedrale l'albero di Natale in vetro di Murano più grande al mondo sarà acceso nel pomeriggio di sabato 5 dicembre quando alle 17 e alle 19.45 ci sarà anche il fantasmagorico show delle fontane danzanti con giochi di luce, zampilli e le musiche più belle. Natale e Capodanno a Ferrara, più di quanto immagini. Cassa di risparmio di 100 Decathlon Ferrara Suzuki Estense Motori